Carissimi lettrici e carissimi lettori, a noi piace, ma questo anche a voi, che ci seguite, conoscere i dettagli di questo immenso caledoscopio delle iniziative che rendono un po' unico il cibo italiano, sia nel nostro paese ma anche all'estero e soprattutto, quindi è veramente un caledoscopio di iniziative, di idee, di genialità sostanzialmente. Slow food è sicuramente uno dei più grandi, se non il più grande contenitore di idee e di iniziativa che si sta sviluppando e si è sviluppato molto anche all'estero. Recentemente, come voi avete sicuramente notato e seguito, abbiamo voluto conoscere, diciamo, all'inizio questo mondo di slow food tramite Fabio Ponti, che è di Slow Food Lombardia, su un'idea molto interessante di valorizzazione dei formaggi di capra della regione Lombardia, con un nome spesso difficile da pronunciare perché si rischia l'errore di sopra la panca, e quindi con Fabio Ponti, in un'intervista che abbiamo recentemente pubblicato, abbiamo approfondito un po' questa, è conosciuto questa realtà di nicchia, ma tutte le cose di nicchia possono poi dare delle idee anche per delle cose più grandi, delle iniziative magari più pop tv, di più grossa portata. Oggi, che cosa invece abbiamo voluto fare? Abbiamo chiesto la disponibilità e che la ringrazio appunto che ce l'ha concessa, a Raffaella Ponzio di Slow Food, di raccontarci sia ancora più approfonditamente che cos'è Slow Food, ma anche questa idea, questa iniziativa importante, ormai presenta molti anni, dei presidi Slow Food. Allora, chiederò poi a Raffaella, io mi sono documentato da LinkedIn, che è anche lui una fonte infine di conoscenza, di chi è Raffaella Ponzio, per chi non la conosce. Allora, Raffaella Ponzio innanzitutto sono vent'anni che è in Slow Food, quindi è una militanza, diciamo, piuttosto, mi dà il 2000, è importante. È responsabile appunto del progetto dei presidi italiani, quindi è la persona più giusta per approfondire Slow Food e i presidi, ed è l'eleanza Slow Food dei Guoghi fino al 2012. Molto interessante anche questo, perché in effetti tutto ciò che valorizza i prodotti del latte e della carne e quindi anche la ristorazione di alto livello sicuramente è per noi interessante. Oggi scrive Raffaella nel suo profilo LinkedIn, faccio parte di un gruppo di lavoro, comunicazione e progetti presso Slow Food International, dove coordino il progetto dell'Arca del Gusto, collaboro alla realizzazione dei progetti di salvaguardia della biodiversità, presidi, mercati della terra, alla ricerca e produzione contenuti di alcune campagne, Slow Food, Climate Change, in particolare ad eventi tipo Terra Matricis. Sono tutte cose interessanti, non ne parliamo sotto altri fronti, soprattutto questo dei cambiamenti climatici, della Green Economy. Insomma, credo che da questa chiacchierata che faremo con Raffaella possano venire delle interessanti idee, se non altro. Prima domanda, Raffaella, ma che cos'è Slow Food? Tutti conosciamo questo brand, ma ce lo puoi spiegare un po' in sintesi che cos'è? Allora, Slow Food, appunto, come hai detto tu, è tantissime cose, sono tantissime iniziative che sono, diciamo, che avvengono in tutto il mondo, è un'associazione di base fondamentalmente che ha ormai più di 30 anni, è presente in 160 paesi. Ed è quindi una grandissima rete, una rete che da terra madre in poi possiamo dire di milioni di persone, una rete che è composta di produttori sicuramente, di agricoltori, di allevatori, ma è una rete composta essenzialmente di persone che si interrogano sul cibo, si interrogano quindi necessariamente di conseguenza su un sistema produttivo, su un sistema agricolo che ha la base poi della produzione del cibo. E si interrogano su questi temi approfondendoli, entrando in relazione con i produttori, quindi facendo anche delle scelte, che si traducono poi in scelte di acquisto. E realizza tutte queste attività sempre tenendo presente un fatto che il cambiamento avviene se siamo una comunità. Quindi tutte quante le nostre iniziative sono iniziative che coinvolgono delle reti, reti di persone. È caratteristico di Slow Food comunque la realizzazione di eventi, di eventi conviviali, in alcuni casi di eventi veri e propri che assumono anche caratteristiche di tipo commerciale, mercatale, perché organizziamo eventi, il più importante è il Salone del Gusto, Terra Madre, che è l'evento internazionale, ma esistono eventi di dimensioni differenti un po' in tutti i paesi. Ad esempio negli Stati Uniti c'è un evento molto importante che si chiama Food Nation. A seconda dei paesi le iniziative ovviamente toccano le tematiche più diverse, che sono quelle più vicine ai problemi di quel paese, alla realtà di quel paese. Quindi sono 30 anni che questo grande movimento sta portando avanti delle politiche del cibo sostanzialmente, perché quello che cerchiamo di fare con la nostra attività è anche incidere su quelle che sono poi le scelte che realizzano anche i governi, che realizzano anche i soggetti comunque politici. E cerchiamo di cambiare le cose, cambiare il cibo che consumiamo, cerchiamo di cambiare quindi la vita anche dei produttori che producono questo cibo. E questo lo facciamo con tutta una serie di progetti, molto concreti, legati proprio al mondo della produzione. E quindi vengo al discorso dei presidi, che è il principale progetto che coinvolge i produttori. Tutto questo però è molto condizionato, c'è una specie di filo rosso che lega tutte quante queste attività. Ed è un po' la consapevolezza che è emersa negli anni nel mondo slow food, dell'importanza di preoccuparsi non solamente del singolo prodotto, del singolo produttore, è la consapevolezza del fatto che occorra preoccuparsi dello stato della biodiversità di questo pianeta, del contesto ambientale in cui tutti quanti questi produttori, tutti i nostri produttori lavorano e operano. E quindi all'inizio degli anni 2000, quando questo tema non era assolutamente all'ordine del giorno, quindi biodiversità che è una parola anche un po' difficile se vogliamo, un po' tecnica, adesso viene declinata quotidianamente quasi. All'inizio degli anni 2000 questo termine era dei tecnici sostanzialmente. E forse Slow Food è una delle prime organizzazioni, associazioni che l'ha chiamato in causa e ha fatto una riflessione su questo tema. Il tema è il fatto che la biodiversità alimentare, quindi sostanzialmente la grande quantità di razze, animali, la grande varietà di vegetali che caratterizza comunque l'ecosistema globale, era sostanzialmente a forte rischio, subiva una pressione fortissima da parte di un sistema produttivo mondiale che era molto industrializzato. Quindi nell'ultimo secolo sono cambiate radicalmente le pratiche produttive. Quindi l'industrializzazione del sistema produttivo ha fatto sì che si andasse ad una riduzione, nel caso nostro perché parliamo di zootecnia alla fine, si andasse ad esempio ad una riduzione forte delle razze animali utilizzate in agricoltura, ma allo stesso tempo si sono ridotte moltissimo le varietà vegetali. Quindi questo impoverimento della biodiversità complessiva, questo puntare su una ipersemplificazione sulle specie più produttive, puntare sulla coltivazione a monocultura, l'allevamento iperintensivo industriale, ha scatenato sostanzialmente una serie di conseguenze che per l'equilibrio climatico del nostro pianeta ormai sono devastanti, perché comunque stiamo vedendo che cosa sta succedendo. Ma hanno creato anche un impoverimento complessivo ad esempio del suolo, una cosa di cui non si parlerà mai a sufficienza. Noi abbiamo fatto una grande campagna sull'importanza della fertilità dei suoli alcuni anni fa. Facciamo parte di una coalizione internazionale, abbiamo lavorato molto affinché la gente prendesse coscienza del fatto che i terreni sono sempre meno fertili. E questo è il frutto di decenni di utilizzo scriteriato comunque della chimica sui nostri terreni, quindi l'eccedenza di pesticidi, di erbicidi, la meccanizzazione molto spinta che ha compattato tantissimo i terreni, le stesse concimazioni, quindi hanno reso, hanno totalmente impoverito la vita, la vitalità dei suoli, quella che ha anche la biodiversità dei suoli. Questo solo per accendere, diciamo, un'attenzione su un settore che però poi di base ha delle conseguenze poi su tutti quanti gli altri. Però a questo punto, Raffaello, che ci siamo, volevo una tua considerazione. Noi ovviamente Ruminanzia è una rivista tecnica, anche un po' culturale, ma essenzialmente tecnica, per cui noi siamo, diciamo, molto focalizzati sia sull'allevamento intensivo, quindi delle grandi pianure italiane, ma anche degli alleamenti estensivi che sono una delle parti, sono degli asset strategici di quelli che vengono chiamati propriamente o impropriamente le aree marginali italiane, che poi sono la fetta più grande del nostro territorio. Quindi noi non sosteniamo intensivo sempre o estensivo sempre, ma dipende, insomma, in alcune situazioni. Chiaramente sia l'alleamento intensivo che l'alleamento estensivo hanno delle criticità, perché devono non vivere anche con un'opinione pubblica, con una situazione anche di nuovi sentimenti, insomma, che animano i consumatori. Ma così, in un flash, Raffaello, secondo te esiste la possibilità di un avvicinamento tra, diciamo, questo demonio dell'allevamento intensivo che spesso nulla ha fatto per comunicare bene la sua realtà, con questo, diciamo, crescente sensibilità popolare che è slow food, ma delle organizzazioni animaliste o ambientaliste, diciamo, quelle non ideologiche ovviamente, cosa che non è slow food, altrimenti forse non c'eravamo incontrati in questa intervista, però sicuramente stanno facendo. Secondo te, l'alleamento intensivo può essere, diciamo, avvicinato ai nuovi sentimenti della popolazione? Allora, io credo che niente possa essere veramente risolto, affrontato, se non c'è una profonda consapevolezza di tutti su quelle che tu appunto dicevi essere le criticità e anche le necessità, i bisogni, no? Quindi quello che cerchiamo continuamente di fare di slow food è di non essere manichèi, no? Cioè, quindi, anche se spesso è anche accaduto che in nome di un'attenzione speciale che noi riserviamo ad alcuni ambiti produttivi ci siamo sempre sentiti un pochettino inquadrati, no? In un certo modo. Noi cerchiamo di capire le cose affrontandole in tutta la loro complessità. Sicuramente nel nostro paese, ma non solo, perché è un discorso che può essere steso a livello globale, è successo qualcosa di profondamente negativo in una serie, che ha coinvolto una serie di territori, no? Quindi c'è tutta un'agricoltura, una presenza umana in una grandissima porzione del paese che progressivamente nel tempo è andata riducendosi e svuotandosi, no? Quindi è importantissimo secondo noi recuperare un impiego, un rapporto, una relazione con un territorio che negli ultimi decenni è andato appunto spopolandosi totalmente e questo ha fatto sì che ci sia un fenomeno di rinselvaticimento dannoso alla fine, no? Perché comunque se non c'è un presidio del territorio, questo territorio rischia veramente di andare perso e di creare poi a valle problemi più forti. Quindi va assolutamente ripresa una forma di agricoltura che non può che essere un'agricoltura più estensiva, no? Che può portare razze diciamo più locali, che sono razze più frugali, più rustiche, più adatte a questi territori. Quindi c'è un allevamento da recuperare in una certa zona. Ma io credo sia innegabile ammettere che serve in qualche modo mettere mano anche alle forme di allevamento intensive delle zone, diciamo, chiamiamole così di pianura. Il che non significa eliminarle, no? Io non credo che la soluzione sia chiudere totalmente. Io credo che ci siano delle strade che si possono percorrere per rendere più sostenibile anche una forma di allevamento più intensivo. È un equilibrio, è una forma di... questo va ricercato però. Io credo che siamo ancora piuttosto indietro su questo fronte e che serva da parte di tutti intanto uno sguardo diverso su quello che è il mestiere dell'allevare. Perché la mentalità per cui l'allevamento è considerato essenzialmente... e gli animali sono considerati essenzialmente strumenti di produzione, no? Quindi con un'indifferenza e una separazione nei confronti dell'animale, no? Che è del tutto nuova e del tutto recente, diciamo. Questo non ha aiutato, no? Questo anzi ha fatto sì che nel tempo si siano sempre di meno considerate alcune cose. Il benessere dell'animale, no? Allora, l'intensivo portato all'estremo e vissuto e praticato con un'indifferenza nei confronti dell'animale porta ovviamente ad uno sfruttamento esagitato, prova... porta allo sviluppo di razze comunque eccessivamente, no? Spinte, per cui alla fine molta alimentazione, una superalimentazione, iperenergetica, una voracità enorme che fa sì che servano comunque risorse anche per, no? Fornire questa alimentazione. Spazi troppo stretti, impiego di farmaci... ecco, io credo che nel tempo si sia un po' deragliato. Questo non significa che il sistema, diciamo, più intensivo sia in toto da rifiutare. Io credo che si possano trovare delle forme di allevamento che siano più rispettose del benessere animale, che siano anche in grado di produrre alimenti di maggiore qualità, ad esempio, no? Perché poi la qualità sull'alimento finale, questo viene sempre considerato un pochino di meno, ma è cruciale. E poi forse... Scusa, solo un'ultima cosa perché è importante. Interroghiamoci anche sui risultati di questo sistema, no? Alla fine sul benessere del singolo allevatore, sul suo benessere anche personale, tutto questo quanto è inciso. La situazione è più positiva oggi di quella di 30 anni fa? Forse non sempre, comunque non sotto tutti i punti di vista, no? E anche la redditività di queste produzioni, delle produzioni da latte, da carne. Insomma, va il gioco vale la candela a questo punto. E interroghiamoci anche sull'ambiente intorno a noi, no? Le analisi dell'ISPRA sulla pianura padana, più recenti, che hanno rivalato comunque un inquinamento delle falde, dei terreni, in certe zone, quelle più interessate all'allevamento intensivo, no? Della Lombardia e in parte dell'Emilia. Ecco, gli allevatori vivono anche in quel contesto, no? Quindi ci deve preoccupare quello che sta intorno a noi, quello che poi ci beviamo alla fine, no? Assolutamente sì. E quindi forse occorre una riflessione collettiva, un po' da parte di tutti, non per negare in toto una forma di allevamento. Ma sicuramente, ed è secondo noi indispensabile, per rivederla. Certo. Sì, sì, ma sicuramente gli estremismi e le ideologie non fanno bene al benessere dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Quindi il dialogo è in questo... spero che inizi un dialogo, noi lo scriviamo sempre, lo aspichiamo, no? Un dialogo non ideologico, un dialogo sereno, costruttivo, è colto, insomma, argomentato per trovare magari una terza via, oppure dividere i piani di sviluppo delle aree marginali da quelle delle grandi pianure irrigue italiane, che poi non è che siano moltissime, ma comunque come vastità sono interessanti. Però prima di arrivare a parlare dei presidi che mi interessa ed interessa anche ai nostri lettori, ti volevo chiedere proprio un flash su questa cosa. Ma secondo te, adesso diciamo che il nuovo mantra è la green economy, no? Questa ricerca di rinderizzare un po' quello che sono alcuni modi di sviluppare l'economia e l'agricoltura. Ma secondo te il consumatore, voi che avete più rapporti di noi sicuramente con il consumatore, ma è pronto per esempio a pagare di più un cibo, un pezzo di formaggio piuttosto che un prodotto della carne, comunque un prodotto dell'agricoltura, a pagare di più se diciamo viene prodotto, viene con dei principi un pochino meno violenti nei confronti dell'ambiente e degli animali. Secondo me l'allevatore è pronto, il consumatore è pronto a pagare di più per questo? Perché se non c'è questo tornaconto economico, è ovvio che l'allevamento intensivo non può mollare la presa perché l'allevamento intensivo si basa essenzialmente sull'economia di scala, no? Ma è pronto o sarà pronto? Io credo che in questo momento ci sia un mercato molto polarizzato, cioè io credo che ci sia una fascia di mercato che è sempre più ampia, che è molto preoccupata e che quindi è anche disponibile a investire un po' di più. Credo che ci sia ancora moltissimo da fare perché è anche innegabile, date anche le condizioni economiche di vita di buona parte comunque della nostra società che non stanno migliorando almeno, non ci sono segnali, ci stiamo forse anzi inoltrando in un momento storico piuttosto difficile. Quindi ci sono sicuramente ampie fasce della popolazione che non solo per ragioni di non consapevolezza, forse anche per ragioni di necessità, no? Devono fare i conti anche con il cibo. Questo però non significa che non si debba lavorare perché su più fronti, quindi non solo diciamo sul fronte dell'educazione, sul fronte della consapevolezza, ma anche sul fronte politico. Perché io non credo che ci sia molta scelta, no? Ovvero pensando in prospettiva, no? Non credo che ci sia molta scelta e che si debba comunque mettere mano ad un sistema produttivo che sta creando troppi disagi, no? Quindi ci deve essere, io credo, un grosso ruolo anche dei decisori politici in tutto questo, che significa anche accompagnare certi cambiamenti. Quindi far sì che chi produce in un modo più virtuoso, che quindi fa degli sforzi anche, no? Per adattare il proprio sistema produttivo, sia in qualche modo supportato e non debba scaraventarsi sul mercato in un corpo a corpo con chi poi dà la sua il supporto alle spalle di anche multinazionali importanti, no? Perché poi alla fine il cibo spesso di qualità, voglio dire, più cadente proviene da filiere che comunque sono filiere che appartengono a multinazionali. E quindi ci deve essere un grosso impegno e Slow Food sta facendo questo. Noi abbiamo anche un ufficio a Bruxelles, ad esempio. Quindi stiamo cercando sempre di più di lavorare in raccordo anche con molte altre associazioni della società civile per far sì che i decisori politici, a partire dal livello europeo fino al livello anche nazionale, siano sempre più sensibili alla necessità di accompagnare questi cambiamenti, di premiare chi si mette in gioco e li ha altro. Ok. A questo punto vi chiederei di parlare, così chiudiamo questa interessante chiacchierata dei presidi? Cosa sono i presidi Slow Food? Ma i presidi, e mi ricollego al discorso della biodiversità che ho fatto all'inizio, i presidi sono la conseguenza di una consapevolezza che Slow Food ha fatto proprio all'inizio degli anni 2000, quando ha realizzato che questa incredibile perdita di biodiversità metteva a rischio un sistema globale, no? E quindi era assolutamente impensabile pensare di conservare la qualità del cibo che mangiamo, perché Slow Food è partito come un movimento molto interessato a valorizzare il piacere del cibo, quindi il cibo di qualità, le produzioni tradizionali dei territori, quindi anche le differenze culturali nel cibo. E a un certo punto ci siamo resi conto che non bastava più parlare di qualità, no? Qualità organolettica dei cibi, ma occorreva fare qualche passo indietro, cercare di andare oltre e capire cos'è che conferiva questa qualità e questa eccellenza organolettica. Ecco, quello che dava queste caratteristiche era sostanzialmente la ricchezza di diversità che c'era dietro ad una serie di prodotti anche, quelli del famoso made in Italy, quelli dell'eccellenza italiana. Ecco, c'erano razze locali di animali a rischio di estinzione, quindi c'erano razze che gloriosamente avevano dato produzioni eccellenti che rischiavano di scomparire assolutamente dal mondo produttivo, insieme a tutto un sistema produttivo che le conservava. E quindi abbiamo deciso di realizzare dei progetti specifici con dei gruppi di produttori per valorizzare coloro che in qualche modo custodivano, quindi si intestardivano anche nel conservare certe razze o nel conservare certe varietà vegetali. E volevamo supportarli, volevamo aiutarli, volevamo fare in modo che il mercato si capacitasse e si rendesse conto che era importante aiutarli perché continuassero a produrre questa qualità e questa eccellenza. E anche perché eravamo profondamente convinti che il cibo di qualità debba essere pagato il giusto. Non sto dicendo pagato molto, sto dicendo pagato il giusto perché poi i termini della questione sono spesso questi. Che cos'è il giusto? Il giusto è quello che fa sì che un produttore possa rimanere sul proprio territorio, gestire la propria azienda. E quindi non dico fare soldi a palate, non è questo l'aspetto. È semplicemente sopravvivere, continuare un sistema produttivo e anche continuare con dignità. Quindi in qualche modo occorreva riconoscere a questi produttori un qualcosa di più rispetto a quello che il mercato gli garantiva. E quindi ci siamo impegnati come Slow Food nel fare questo patto con i nostri presidi. Quindi noi li avremmo in qualche modo tutelati, difesi. Presidio richiama un po' un concetto di fortezza, di difesa, di caposaldo. Quindi li avremmo in qualche modo aiutati a raccontarsi, quindi aiutati a trovare un pubblico di consumatori interessato, più sensibile alla loro realtà. E in cambio loro dovevano fare una cosa semplicissima, cioè dovevano garantirci che avrebbero continuato a produrre secondo tradizione come avevano del resto sempre fatto. E in alcuni casi, dove era necessario, a migliorare alcune pratiche produttive o alcune pratiche di allevamento. Ad esempio uno sforzo che stiamo facendo in questo senso, in questo momento con i nostri allevatori è cercare di sensibilizzarli appunto alla questione del benessere animale. Quindi cercare di farli riflettere sull'importanza di gestire i propri animali con rispetto e anche di migliorare il più possibile anche quella che è la loro alimentazione. Benessere animale vuol dire anche una buona alimentazione dei propri animali. Quindi i produttori dei presidi realizzano dei disciplinari di produzione, se li realizzano da soli, quindi non c'è un tecnico calato dall'alto che piomba in mezzo a loro e scrive come devono produrre. I nostri produttori si riuniscono, sono gruppi che interagiscono, che nell'ambito di riunioni tra di loro con il supporto di Slow Food producono questi disciplinari che rispettano delle linee guida generali che sono peraltro sul nostro sito, quindi possono essere consultate da chiunque e in base a delle linee guida generali, faccio un esempio, per i formaggi è indispensabile il latte crudo per esempio, indispensabile per garantire la conservazione di un'identità ai formaggi, quindi di una differenza tra tutti i formaggi, che è data appunto dalla presenza di una flora batterica integra nell'ambito del singolo formaggio. Per quanto riguarda la carne, noi abbiamo chiesto ai nostri allevatori di fare una scelta forte di rifiuto degli insilati, di cercare di incrementare il più possibile la presenza nell'alimentazione dei foraggi freschi e anche secchi, di cercare di garantire il più possibile il pascolo ogni volta che questo è possibile. Abbiamo detto no alle mutilazioni, alle gabbie, per quanto riguarda, se pensiamo all'ambito avicolo, chi alleva avicoli nei pressi di slow food non utilizza le gabbie assolutamente. Questo solo per accennare ad alcune regole diciamo di base. Abbiamo chiesto di dire no agli OGM, questo significa dire di no a una soia, ad un mais che prevalentemente provengono dall'estero, come sappiamo, e provengono da un'agricoltura. Pensiamo che cosa sta succedendo al Brasile, alla foresta amazzonica che viene disboscata in modo preoccupante per la salute del pianeta, per lasciare spazio a quelle che sono poi coltivazioni di soia piuttosto che enormi pascoli per una carne che poi viene esportata e entra anche poi in modo concorrenziale sui mercati nei nostri paesi. Quindi la scelta di dire no agli OGM è una scelta innanzitutto di tipo ambientale per quanto ci riguarda, per quanto riguarda slow food. Ed è una scelta anche comunque politica perché gli OGM sono brevetti comunque in mano a multinazionali che poi condizionano pesantemente anche la vita degli stessi allevatori che poi impiegano. Bene, era bella. A Presby sono più di 500 nel mondo, quindi è un progetto che... 500? Sono circa 590 nel mondo. In Italia è il paese in cui ce ne sono di più, ce ne sono 323 se non sbaglio. E riuniscono diverse migliaia di persone in Italia. Nel mondo decine di migliaia. Bene. Raffaella, io ti ringrazio di questa chiacchierata, di questo libero confronto di idee. Questo è il nostro pay off. Scusate. E niente. Ti ringraziamo ancora, seguiremo slow food come seguiamo tutti quelli che possono essere le iniziative di rafforzamento del nostro cibo, del nostro made in Italy, del nostro modo di vivere e di mangiare. Per cui grazie, in bocca al lupo arrivi il tuo lavoro e saluti a tutti voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.